YOLANDA SWITZ Sono quasi 11.000 like E sono 9.000 commenti Ok, sono meno del video del mio giveaway dell'altra volta Allora adesso però dobbiamo aspettare Perché deve fare, deve lo addare tutti i commenti Io ho messo il link qua, come potete vedere Adesso sta analizzando e caricando tutti i commenti Allora, nei commenti ne dovevano essere uno Quindi se esce una persona con due commenti Mi dispiace ma la persona non ha vinto Perché ce ne doveva essere solo uno I vincitori però sono due Quindi andrò a fare in questo caso due estrazioni Allora, chi vincerà? Io contatterò la Resin Pro E dirò i nomi della persona che ha vinto Ovviamente voi dovete vedere il video del giveaway dell'estrazione Altrimenti come fate? A sapere che ha vinto Mi dovete contattare lasciandomi un messaggio su YouTube Magari su Instagram o Facebook Dandomi i vostri dati Io do i vostri dati alla Resin Pro E la Resin Pro spedirà a voi i premi Quindi voi non dovete pagare niente raga Assolutamente niente L'altra volta è successo un casino Ogni volta che faccio un giveaway è sempre un macello Comunque Sta caricando i commenti Lasciamoli caricare Già sta a 1.000 Devo arrivare a 2.000 Sì ciao A 9.000 Allora Siamo tornati Finalmente Adesso vado a cliccare qua Randomly Pick Winner Clicchiamo Ok Il primo vincitore è Federica Lippa Che mi ha scritto Partecipo spero di vincere PS Ti adoro Ok Ha fatto un commento Ha avuto un like Non so se si è messa lei stessa o meno Comunque ha avuto un like I like non contano Però ha avuto un commento Federica Lippa Che vediamo Lei Ah brava Vedi è scritta al mio canale Federica Lippa che sei tu Ma ragazzi È inutile che mo vi create 350 Una cosa che io odio È che voi vi fate gli account fake Molte persone Non lei adesso Per essere contattati Ragazzi ma queste cose non si fanno Ma veramente fate Comunque Federica Lippa Per favore Contattami In privato anche su Facebook O su Instagram O su YouTube Mandami un messaggio Per favore Adesso Vado a ricliccare qua Randomly Pick Winner Per fare il secondo nome Quindi riclicchiamo Ah ok Vitticatti Oh cavolo Ha avuto 5 like Il suo commento Però ha fatto un commento Quindi giusto Vitticatti Fatto tutto Purtroppo non ho Facebook Va bene non fa niente Ti amo Io vi ho detto nel video Se non avevate Facebook Instagram Non faceva niente Quindi non iniziate a dire Vitticatti Vediamo Ah è lei Ok Con questa Ah lei ha tutto privato Con questa immagine qua Quindi Palesati per favore Quindi le due vincitrici sono Vitticatti Secondo posto E Federica Lippa Primo posto Bene Quindi ragazzi Contattatemi per favore Per il vincitore Ragazzi Vi chiedo un solo favore Di non fare nessun account fake Perché me ne accorgo subito Che siete fake Quindi Perché altre volte è successo Io mi sono arrabbiata veramente Tantissimo Per favore Non lo fate Perché Si parla veramente Di scorrettezza Questa Voi due siete le vincitrici Contattatemi Vi do una settimana di tempo Se non mi contattate Io dovrò fare un'altra estrazione Mi dispiace per chi non ha vinto Ragazzi Come vedete Non ve la prendete con me per favore Perché altrimenti mi fate passare la voglia Di fare i giveaway Veramente Io reggo certi commenti assurdi Di persone che un altro po' mi augurara morte Perché non vincono un giveaway Ma state scherzando Veramente Cioè raga Per favore Gente mi disiscrivo Perché non ho vinto Ma io non posso farci niente Vedete che ho fatto tutto al computer Con un sito random Va bene Spero di essermi spiegata Con questo è tutto Non vi preoccupate Non temete che ci saranno sicuramente Nuovi giveaway Quindi restate collegati ragazzi Perché io sono Lo sapete Io sono sempre propensa A regalarvi cose Io non ci metto niente Quindi appena qualcosa Attacca anche Resin Pro O io Faccio un giveaway Quindi state sempre collegati Mi raccomando Attivate la campanella Iscrivetevi Per nuovi giveaway E nuovi video Con questo è tutto Vi mando un bacione A tutti voi cuoricini pucciosi Un abbraccio super hyper mega Fortissimo Mi raccomando ragazzi Ci vediamo domani All'ore 14 e 30 Con il video Dell'apertura Degli slime Nuovi Quelli beads Mi raccomando Restate collegati Vi mando un bacio Un abbraccio Ci vediamo domani Ciao ciao Bye bye Qua ciao ciao Bye bye Ciao ciao